Giovi, ma te ne sei accorta una cosa? Io ero a guardare il computer e guardavo che è 390, 395, 400, 480, 500. Sai come funziona qua? Mi sa che è andata a finire perfettamente. Come fai il lievito madre? Come fai il lievito? Lievita lunga, lunga, lungo tempo. E quando viene il pane? Viene? Ottimo, quindi cosa diciamo noi? Grazie a tutti gli amici che si sono iscritti al nostro canale. Vediamo di far assaggiare questo lievito madre di Giovi e Giovi ai vostri amici, condividendo con i vostri amici, nelle home dei vostri amici. Ragazzi, mi raccomando, fateci conoscere. Non costa nulla iscrivervi. Poi è gratis il lievito madre, così basta gratis. Non si vende il lievito madre. Guai a vendere il lievito madre. E neanche all'iscrizione su YouTube. È gratis. Cosa vi costa? A noi ci fate contenti perché comunque è una bella soddisfazione vedere crescere gli iscritti. Mi raccomando, ci vediamo sempre su questo canale. Attendiamo i vostri commenti perché ci aiutano a migliorare la vostra iscrizione, dei vostri amici e dei vostri parenti. Ciao da Giovi e Giovi. E in più io vi volevo dire una cosa. Se arriviamo a 600 ci sarà il contest, quindi sbrigatevi a far crescere questo canale. Il contest lo troverete nel canale e nella descrizione. Adesso qui sotto, dopo il video, sotto il video, addirittura riusciremo forse a metterlo qua. Guardate, in questo momento, quando alzerò questo, ecco, su questo lato troverete l'indicazione del contest. Aprite e poi guardate anche il contest. Non mi pare solletico. Ciao da Giovi. Ripetiamo per la seconda volta. E Giovi. Aspetta, no, 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 scherzavo. Ciao, alla prossima. Ciao. Ciao.